Vuoi che ti accompagni a casa? No, no, non importa. Ma sei sicura? Sì, sono sicura, grazie allo stesso però. Va bene. Ciao. Grazie infinite, Jackie. E dai, smettile. Notte. Ehi, Jackie, Jackie! Ti ricordi quello che ti dicevo di quel gentleman che era dentro e che voleva tanto uscire fuori? Sì. Beh, è uscito fuori e ti vuole accompagnare a casa. Va bene. No, mica ti posso lasciare sola, questo può essere molto pericoloso. Sì, sì, ci abita un sacco di gentaccia. Non gli avrei mica dato la chiave a quel progetto di chitarrista? No. Ve l'hai data? No. Ma mica per controllare? Beh, allora che ne pensi? Conta quello che pensi tu. Ma credi che dovrei provarci o no? Ormai la scena la conosci. Lo so, ma la faccio bene o no? Sì. Sì? Sì, beh, buonanotte. Buonanotte, Jackie. Ciao. Ehi, Jackie, un momento. Voglio dirti una cosa però, è molto difficile perché io non ci sono abituato a dirti delle cose carine. E... Beh, io credo che noi siamo stati veramente bene stasera. Insomma, è stata una bella cosa. E pensavo che... Beh, il modo in cui mi sono comportato con te è stato sbagliato. Io... Non lo so, non voglio perderti, capisci? Io sto... Io sto veramente bene con te. Pensavo che... Se tu... Tu... Provi la stessa cosa e io provo la stessa cosa per te, magari noi... Noi possiamo rimetterci insieme. Io ti amo, Jackie. Non lo so, perché... Oh la corsa! Grazie.